Buon pomeriggio. Nel nostro spazio Associazione Canale Paesi delle Donne ospitiamo oggi un discorso sulla poesia. Ce lo porta Anna Lombardo che è la direttora artistica del Festival internazionale di poesia Palambra e nel mondo nato a Cuba e che si svolge a Venezia da quasi un ventennio. Il di questo festival noi adesso sapremo tutto come è nato, le finalità e tutto quanto, chi è stato premiato, chi è stato premiato nell'ultima edizione ma soprattutto ci interessa il percorso di questo festival nel mondo e il percorso personale di Anna Lombardo che ricordo non è soltanto la direttora artistica del festival ma è una donna che ha un percorso poetico importante eh sia negli scritti poetici e sia eh nei lavori di ricerca e si è infatti eh laureata eh con una tesi sulla marginalizzazione della scrittura femminile poetica contemporanea al Trinity College di Dublino e ha proseguito nella ricerca su figure femminili e maschili di poete e poeti e naturalmente nel mondo. Cominciamo quindi questo percorso internazionale eh ringraziando Anna Lombardo che da Locri si è spostata a Venezia credo dove vivi da molti anni e la prima cosa che ci deve raccontare eh è il suo percorso come è arrivata la poesia e come è arrivata al festival. Grazie grazie infinite per questo spazio che che mi offri eh Maria Paola è sempre importante eh parlare appunto di di poesia e e far vedere e capire il il percorso di ognuno di noi. E tu mi hai fatto subito una domanda come io sono arrivata alla poesia. E questa è una domanda bellissima un po' difficile. Devo dirti posso dire semplicemente che io ho sempre amato leggere fino a quando ero ero piccola e ho avuto anche la fortuna di avere una madre che amava eh anche lei leggere e quindi questo diciamo anche anche facilitato il tutto credo. E poi evidentemente la poesia mi ha mi ha toccato perché l'ho sempre coltivata e l'ho portata avanti. Un docente mi ricordo un professore della scuola media eh mi ha anche molto molto incoraggiata a a scrivere e quindi insomma questo è stato è stato un po' l'esordio. E e dopo ho ho continuato. Devo dire che inizialmente la poesia era una cosa un po' privata sai perché non non era non era ben vista e sembrava no non sembrava ovviamente non era una professione. Non poteva essere una professione soprattutto per le donne. Infatti ricordo le prime volte quando eh così scrivevo oppure qualcosa veniva pubblicata e la facevo vedere a mia madre e le dico sempre oh povera figlia mia perché per lei era una perdita di tempo e quindi non mi non mi focalizzavo sulle cose no reali per quanto riguardava una donna quindi farsi la famiglia trovare un lavoro eccetera eccetera. Per cui per un certo periodo ricordo ho tenuto questa cosa un po' per me ecco. Poi all'università a Venezia diciamo che ho avuto più incoraggiamento come e quindi questa cosa è venuta più alla luce e mi ha permesso poi di crescere perché secondo me si cresce anche attraverso la poesia la bellezza e il dono della poesia. E questo passaggio sul collegio di Dublino ha un anno di questo genere importante? Sì 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 molto molto. Io ho fatto la mia prima tesi di laurea all'università Ca' Foscari di Venezia su una anglo-irlandese una filosofa scrittrice Iris Mardoc e mi aveva ovviamente molto affascinato questo suo modo di parlare e soprattutto degli uomini e questa è una cosa che mi incuriosiva gli uomini visti da 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 una donna. E dopo molto molto più avanti negli anni è stata anche una scommessa diciamo che ho fatto perché subito dopo la laurea non ho fatto il dottorato ho fatto altre cose ho lavorato in altri settori in altri in altri ambienti e dopo ho deciso di continuare questo questo studio che è venuto quelle strane coincidenze che accadono nella vita e ti portano a che uno dice era già tracciato. Allora una mia amica che tra l'altro è una scrittrice e vive a Roma la Sara Zanghi che molto probabilmente avrete avrete di sicuro conosciuto Esatto. La sua compagna stava lavorando sulle Eleonora Duse e c'era una poesia delle Eleonora Duse dedicata all'inverso c'è una poesia della Amy Lowe questa poetessa americana di cui mi sono appunto occupata nella mia tesi di dottorato che aveva scritto una poesia sulla Duse e quindi lei mi chiese di aiutarla nella traduzione e devo dire che questo testo letto mi ha molto molto incuriosito e affascinato e quindi sono andata a capire questa donna che negli anni venti si innamora praticamente della Duse e lì comincia a scrivere e diventa poetessa quindi è stata una cosa incredibile per me E' una propria fascinazione Esatto E' un rapporto veramente intrecciato Incredibile Di attrazione poetica, di attrazione di personaggia che ha prodotto questo tuo studio Esatto E invece che hai preso di dottorato sulla marginalizzazione come è nato? E' nato proprio nel caso, io ho studiato il caso di questa donna appunto Amy Lowe molto molto conosciuta durante la sua vita Appena morì venne praticamente cancellata e subissata da critiche incredibili dai critici maschi che ovviamente hanno sempre indirizzato la letteratura e hanno detto chi va al primo posto e chi va all'ultimo E quindi questa cosa del suo erasement proprio nella letteratura ho cominciato a farmi le domande Come mai? Cos'è successo? Anche perché lei era una delle sette famiglie più ricche degli Stati Uniti d'America che hanno fatto Che hanno fatto l'America La sua famiglia è quella che ha costruito la sua ricchezza sul cotone Tanto per dire Una cosa che mi aveva però colpito non soltanto lei venne diciamo cancellata dalle antologie eccetera americane ma negli anni settanta quando le nostre femministe cominciarono anche a fare tutto un percorso di recupero di donne che scrivevano e marginalizzate eccetera infatti le nostre icone Emily Dickinson eccetera Saffo, Nosside, molto molto meno Nosside Lei venne in qualche modo presa subito dopo però quando ci fu la traduzione di quest'altro poema bellissimo che si intitola The Sisters e questo venne scritto nei primi anni venti per la prima volta abbiamo tre donne che parlano ovviamente non parlano perché è un monologo che fa la Emily Lowell ma lei lo fa con tre donne la Saffo, Elizabeth Barrett Browning e la Emily Dickinson ed è una delle prime volte che succede nella storia avere queste tre donne dentro un testo poetico Sono persone molto interessanti No, no, ma volevo dirti perché purtroppo il tempo è un po' tiranno No, no, per concludere questa frase sulla incredibile importanza di questa triade Sì, no, no, la triade è molto importante certo ma la cosa importante è che ha fatto anche allontanare la Emily Lowell dalle femministe nostre italiane fu la frase finale con cui lei concluse questo suo poema dicendo a queste tre donne benissimo, voi siete delle sorelle e a volte le sorelle sono molto molto pesanti io non posso scrivere come voi andate, la storia va avanti e questa cosa è stata letta come un allontanamento una specie di arroganza, chiamiamo così cosa che non era lei stava cercando la sua voce e dice noi dobbiamo cercare la nostra voce prendere il meglio da ognuno di noi da tutte le cose che noi facciamo e andare avanti quindi invece di, voglio dire, era un prendere un filo e continuare la propria tessitura ma sono sfumature che non sono sfumature sono passi importanti di un percorso sia attraverso il protagonismo femminile sia attraverso il protagonismo poetico delle donne che sono due cose che sembrano uguali ma non lo sono ecco, non lo sono che portano poi a delle strade come quella che hai intrapreso tu incrociando il festival ed è il momento sul quale adesso noi arriviamo a questo festival come è nato e che finalità ha perché mi sembra che sia nata a Cuba e adesso si fa, si celebra a Venezia no, allora chiarisco il festival nasce a Cuba esattamente perché contro l'embargo ed è stato un gruppo di intellettuali artisti cubani nel 2007 credo che ha deciso di sostenere il festival internazionale di poesia che c'era a Lavana e quindi ha lanciato questo messaggio questa richiesta a tutto il mondo fate anche voi un festival di poesia con queste parole d'ordine il discorso della pace il discorso dell'accettazione contro le disuguaglianze per i diritti umani e contro ovviamente l'embargo diciamo che questo appello è stato raccolto in giro nel mondo saranno più di 900 adesso paesi che lo fanno in contemporanea perché questa era anche la cosa carina viene fatto in contemporanea a maggio e inizialmente una settimana adesso è tutto il mese di maggio ognuno sceglie dove, come portare avanti questo tipo di messaggio poetico e politico perché questa è una cosa importante che anche diciamo chiarisce il concetto di poesia che portiamo avanti anche nel festival che io insieme ad altre persone facciamo qui a Venezia in altri posti può essere anche differente però qui ci teniamo a fare questo discorso orizzontale per cui le persone che vengono si incontrano sono anche di diverse generazioni di diversi paesi si confrontano e si confrontano soprattutto sulle cose che fanno per quanto riguarda la poesia la poesia che dovrebbe sollecitare un minimo di riflessione anche su dove vogliamo andare in questo bellissimo pianeta ecco questo è il e il festival viene fatto con questi criteri le persone che sono invitate sono tutte persone che fanno della poesia una poesia attiva non è una poesia decorativa è una poesia che li fa muovere fa muovere loro e fa muovere anche le altre persone che hanno la fortuna di incontrarsi insomma chiaro Venezia è un bellissimo è un bellissimo scenario per questi incontri sembra di sì poi Venezia alla luce che naturalmente la luce pensa Venezia mi sembra quasi un sinonimo alla luce di Venezia alla luce del festival quale può essere il tuo commento sulla presenza e sul portato femminile all'interno di questo festival? Dunque il mio desiderio è sempre quello di avere un festival totalmente al femminile non perché non ci siano poeti che hanno dato un contributo bellissimo e altissimo cito uno Jack Hirschman per esempio il poeta americano che è morto quest'anno e altri però il mio sogno è avere tutto un festival femminile io insieme alle altre persone facciamo il possibile abbiamo sempre delle figure femminili che vengono da diverse parti del mondo dal Messico dall'Afghanistan dall'Iran dalla Siria cioè proprio cerchiamo di coprire in base alle nostre conoscenze perché ovviamente tutti i testi vengono fatti in lingua originale ogni persona legge nella sua lingua poi noi proiettiamo la traduzione in italiano perché noi italiani siamo fatti così insomma e questo anche limita a volte i confronti con i poeti che vengono da fuori per cui si sentono insomma si riesce a creare noi cerchiamo di farlo però vedo che è un po' difficile questa è una delle difficoltà la parte linguistica è molto e molto difficile per noi insomma per altri è nota di stagione di là dei casi personali perché non si può certamente generalizzare però è nota che la scuola italiana è un po' carente sull'aspetto linguistico Maria Paola io ho insegnato inglese per più di 25 anni so so quali sono i problemi della nostra scuola italiana purtroppo ma anche le resistenze perché in fondo la lingua è semplicemente anche una questione di volontà di voglia di comunicare non è che uno deve essere perfetto eccetera però se non hai la curiosità e la voglia di comunicare la lingua entra con molta molta difficoltà e dobbiamo dire che noi abbiamo un problema di timidezza stranamente stranamente continuo pienamente senti tornando un momento sulla materia della tua tesi rispetto ai criteri della marginalizzazione della tua scrittura politica femminile che è una qualcosa che ci interessa moltissimo anche perché noi come associazione insieme ad altri proponenti proponiamo il 29 ottobre una giornata di riflessione nella Casa Internazionale delle Donne di Roma alla quale ringraziamo perché c'è anche la vostra visione e il vostro patrocinio proprio sui percorsi su come come e dove si si guarda si parla si insegna si tramanda si visibilizza e si propone la storia delle donne e la storia di genere e un po' di studio sarà riservato proprio alla poetica alla poetica tra l'altro coordinato da Exosfere Exosfere L'Ede spirituale dell'Associazione Donne Poesia che è nata nella Casa Internazionale delle Donne e ha portato avanti il primo premio per poete dagli anni fin degli anni 80 fin dei 90 fino all'anno scorso praticamente questo piccolo inciso era per tornare su una materia precisa cioè marginalizzazione nell'interno della tua tesi di dottorato quali sono gli elementi che tu hai rilevato rispetto alla marginalizzazione della scrittura poetica femminile il classico ovvio è quello che la struttura del nostro sistema è maschile e qui non ci piove e questo già è un grosso un grosso problema il secondo problema è l'incapacità perlomeno lo è stata adesso un po' meno anche con queste azioni che voi fate che noi facciamo cioè che come donne cerchiamo di fare l'altro problema dicevo è la comunicazione tra di noi una delle cose che diciamo così fece il successo all'inizio degli anni 20 del primo del primo femminismo fu proprio quello che le donne cominciarono a unirsi e a raccontarsi le cose e dire sì effettivamente succede anche a me così questa è la mia esperienza le esperienze sono uguali situazioni differenti come per esempio accade alla Amy Lowell pur appartenendo ad una classe agiatissima però anche lei ha subito diciamo il segno negativo da parte degli uomini senza considerare senza entrare nel merito della sua poesia anzi la sua poesia diventava troppo verbosa troppo piena di aggettivi perché lei era una donna eccetera eccetera e non raccontava poi quello che loro volevano sentire perché teniamo anche conto questo che è vero che noi stessi siamo abituate a recepire la poesia e a capire la poesia attraverso però la poesia maschile quindi l'abbiamo in qualche modo incamerata ed è uno dei messaggi della Amy Lowell che le femministe degli anni 70 non capirono bene la Amy Lowell disse noi ci dobbiamo svestire quindi svestire di tutto ciò e cercare di riprendere capire intanto perché non è semplice trovare la propria voce questo è uno dei problemi anche io come artista della parola mi trovo in questa condizione perché ogni tanto dico beh parlare di Danunzio dico beh Danunzio non è un cattivo poeta però uno dice ah Danunzio però se uno non so se ecco la lirica la cosa cioè dobbiamo anche distinguere separare separare queste cose una cosa però che il festival e questo lo leggo adesso al festival mi ha anche concesso è quello di avere una panoramica anche della poetica femminile contemporanea di tutti questi ultimi anni perlomeno appunto dal 2009 dal 2009 fino a fino al 2022 e quindi mi ha permesso anche di capire come per esempio ci sono una cosa che mi ha sorpreso la poesia delle poetesse rumene è leggermente differente da quella che noi pratichiamo per esempio sia in Francia ma lo stesso anche in Italia perché la loro storia è completamente diversa quindi anche capire questo qual è la loro ironia per esempio mi ricordo la poetessa serba Ivana Maxic che partecipò al nostro festival quattro anni fa e lei aveva un'ironia per noi un po' un po' difficile e ricordiamo che venivano fuori da un periodo molto molto brutto come appunto adesso stiamo verrendo fuori anche noi la guerra continua proprio veramente ti sento malissimo pubblicato un'antologia sì noi dunque la pandemia ci ha aiutato in questo perché ovviamente non potendo fare il festival in presenza allora abbiamo sempre fatto il festival via web ma in modo particolare abbiamo il sito web dove ognuno può andare e quindi anche ascoltare i testi delle persone vedere le foto che loro ci hanno mandato perché ho chiesto di avere il loro sguardo su quello che succedeva in quel momento particolare della pandemia quindi guardarsi attorno e fare le foto e loro le hanno mandate ed è una bellissima documentazione non so se si riesce a vedere questo è l'ultimo l'ultimo lo mettiamo poi in mascherina sì infatti poi questo è l'ultima benissimo lo metteremo in mascherina così faremo grazie pubblicità per una parola comunicazione esatto anche perché per noi è stato anche un grosso impegno perché c'è una cosa da dire il nostro è un festival indipendente e auto e autofinanziato perché dobbiamo dire anche una cosa Venezia è molto bella tantissime cose però la poesia non è che viene molto curata noi siamo gli unici che da più di ormai cos'è dodici anni quindici anni facciamo esclusivamente poesia e non abbiamo assolutamente il sostegno del nostro assessorato e del nostro comune è veramente strano in una città no non è strano non è strano perché sapete come sono i meccanismi quando entra la politica o gli amministratori locali eccetera vogliono comunque dettare anche una linea una loro legge su un qualcosa diciamo di cui non hanno assolutamente competenza e quindi noi siccome ci teniamo alla competenza e alla qualità le persone le scegliamo e sono tutte persone che hanno come dicevo prima hanno anche un senso di responsabilità verso la loro parola poetica perché bisogna avere una certa responsabilità altrimenti vabbè scriviamo ci teniamo nel cassetto ma una volta che io decido di mettere in comunione diciamo questo mio pensiero questa mia scrittura devo assumermi questa responsabilità e speriamo che ci sia un inversore di tendenza e comunque me lo auguro comunque questo è un festival bellissimo così come grazie la vostra attività il vostro attivismo poetico se si può dire così e quindi noi chiudiamo qui questo bellissimo spazio se posso dare degli altri appuntamenti e magari faremo un incontro ad hoc sulle pubblicazioni che voi avete fatto del festival rispetto al materiale che cosa voglio ancora aggiungere no volevo dire appunto che volevo semplicemente dare il sito del sito web dove ognuno può andare ascoltare e gustare il sito è www.palabraenelmundo tutto attaccato che proprio significa parola nel mondo palabrenelmundo venecia punto wordpress punto com credo che anche se si inserisce palabrenelmundo venecia appare subito benissimo ma tanto nella mascherina del nostro canale ci sarà la descrizione non dico accuratissima però con tutte le info i riferimenti e chiunque possa vedere vorrà vedere questo video spero in molti in molte avrà i riferimenti anche scritti allora grazie moltissimo ad Anna Lombardo grazie al festival del patrocinio che ci ha dato e sicuramente ci rincontreremo in questo spazio in canale associazione del paese delle donne che è dedicata a questo ad attraversamenti incontri e attraversamenti sono molto grata anche a voi ci vediamo ad ottobre ci vediamo ad ottobre grazie infinite ciao ciao